Con il totale azzeramento degli spettacoli dal vivo e di quelli che richiedono l'aggregazione del pubblico, come il cinema, negli ultimi dieci mesi il Covid ha profondamente modificato il paniere e le modalità di consumo culturale degli italiani. A dirlo una ricerca condotta da Impresa Cultura ConfCommercio in collaborazione con SVG. I risultati mostrano un consumo culturale in Italia che si è obbligatoriamente spostato su scenari decisamente meno battuti prima della pandemia. Oltre agli onnipresenti consumi di TV generalista, cresce infatti fortemente il consumo di contenuti digitali. Aumenta del 34% l'impiego di piattaforme web in abbonamento e del 20% quello dei canali a pagamento in generale. Passaggio al digitale che vale anche per la lettura dei quotidiani. Durante il lockdown un lettore su sei ha dichiarato di aver abbandonato la versione cartacea in favore di quella digitale. Aumenta sensibilmente la lettura dei libri più 14%, anche in questo caso l'8% dei lettori dichiara di essere passato agli ebook, mentre diminuisce la lettura di fumetti e riviste. Se i consumi di contenuti audiovisivi e di piattaforme a pagamento la fanno da padrone, la formula degli spettacoli dal vivo in digitale, spesso proposti dai teatri per tenere un canale di contatto con il pubblico e per farsi conoscere anche da chi in presenza il teatro non lo frequenta, non ha riscosso successo. In media solo un italiano su cinque che abitualmente spende per vedere spettacoli a pagamento ha usufruito di questa proposta. Per chi già prima non usufruiva di spettacoli dal vivo, la percentuale scende al 6%. Stesso discorso per le visite virtuali a musei e siti archeologici. E per ciò che riguarda le aspettative sul futuro? Sarà per colpa dello stress psicologico indotto dal lockdown, ma cresce molto l'aspettativa legata al divertimento, che registra il 15% in più delle preferenze rispetto a dicembre 2019, a relax più 14 punti e al fare qualcosa di diverso.